Tra interrogativi e polemiche interne erano in molti, in Italia e in Europa, a chiedersi perché il governo Draghi avesse voluto optare per la vaccinazione obbligatoria agli over 50. Qualche risposta è arrivata nella conferenza stampa di questo lunedì, nella quale il Premier, dati alla mano, ha spiegato come la scelta sia stata orientata da un mero calcolo costi-benefici. Ma l'abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per due terzi dai non vaccinati. Draghi ha inoltre dovuto spiegare perché non abbia voluto riprendere le lezioni scolastiche con la didattica a distanza, tirando dritto nonostante il pressing di molti governatori. Basta soltanto vedere quali sono stati gli effetti sulla diseguaglianza tra studenti, tra scolari, della DAD lo scorso anno, per convincersi che questo sistema scolastico, che può essere necessario probabilmente in caso di emergenze drammatiche, provoca delle diseguaglianze destinate a restare. Diseguaglianze che si riflettono poi su tutto il futuro della loro vita lavorativa.